Buonasera, grazie, spero che non vi siate annoiati, era noioso? No, va bene, questo è buono, già quello vuol dire che il prodotto non era proprio scadente. Ho appena ricevuto una telefonata in questo momento, interessante, perché mi dicevano, ho telefonato il mio amico con cui ho lavorato, Fabio Fazio, e mi ha detto che stasera D'Alema è andato in trasmissione, lui gli ha fatto una domanda specifica e praticamente ci ha dato ragione, perché ha detto che è stata una cosa veramente strana quella notte e dice a un certo punto il vantaggio dell'Unione era di 840 mila voti e poi è improvvisamente crollato e dopo che è improvvisamente crollato sono scomparsi completamente i dati, c'è stato questo famoso blackout di cui si parla, per questo venne mandato Minniti e nel momento stesso in cui Minniti entrò al Viminale, qui c'è una ricostruzione diciamo che per una serie di motivi, insomma rende bene l'idea della drammaticità di quel momento, in realtà fu ancora più drammatico, perché Minniti addirittura prese di petto, nel senso che prese per il petto, un funzionario del Viminale lo sbattacchiò ben bene e gli disse adesso tiri fuori i dati o qui facciamo più o meno la rivoluzione, perché in quel momento il Viminale era completamente sguarnito, cioè non c'era il Ministro degli Interni, non c'era nessun sottosegretario presente, non c'era nessuno, nel momento topico delle elezioni non c'era più nessuno al Viminale, non dimentichiamoci che quella notte era una notte particolarissima, perché c'era in corso l'arresto di Bernardo Provenzano, cioè del capo mafia, del più grande latitante del mondo, quindi scusate se è porco, e perché lo stesso Ministro Pisano, se vi ricordate, aveva lanciato un allarme terrorismo per le elezioni, soprattutto nei giorni delle elezioni, bombe, i seggi, etc., etc., insomma si temeva qualcosa, quindi in una situazione molto delicata, il Ministro Pisano se ne stava altrove, noi abbiamo fatto questa ricostruzione, che è una ricostruzione fedele, riprodotta su questa ricostruzione fatta da Elio De Capitani, è una ricostruzione fedelissima, fatta sulle testimonianze di persone che hanno assistito quel dialogo, ma prima di questo dialogo teso, che avvenne dopo la proclamazione dei voti da parte di Fassino, prima pare, leggendo il libro che ha scritto Bruno Vespa, che si respirasse un clima molto idilliaco a Palazzo Graziole, a casa di Silvio Berlusconi, nel comitato elettorale di Forza Italia, un clima molto idilliaco, tanto che Pisano si era fatto portare dal cuoco Michele un gelato, un bel gran gelato e si era seduto davanti alla televisione aspettando che i cronisti dessero il risultato della vittoria della Casa delle Libertà. Questa è la storia recente d'Italia ed è uno dei grandi misteri che si va a giungere ormai a un treno di misteri, qui purtroppo siamo a Bologna dove è una città martire, diciamo in questo senso, toccata dalla strage dell'Ottanta, su cui non c'è ancora una risposta e di questi buchi neri nella memoria d'Italia degli ultimi anni ce ne sono troppi ormai e con Enrico De Aglio siamo anche arrivati alla convinzione che tutta questa merce poi, tutti questi buchi neri, questa mercanzia sporca serva alla fine come elemento di pressione, di ricatto, eccetera, eccetera. Per cui insomma ci è parso giusto incazzarci un po' e fare questa roba qui. Beh, questo è un po' l'origine del film. Ah, scusate, origine del film e qui voglio ringraziare il nostro vero ispiratore di questo film che si chiama Silvio Berlusconi perché senza di lui e senza la sua insistenza sui brogli, forse non ci saremmo mai arrivati. Ci sono due fatti che mi lasciano perplesso in quello che avete fatto vedere. Il primo è che mi aspetterei che i DS avessero degli osservatori in ogni sezione e che questi osservatori alla fine del verbale si scrivessero i numeri uno sotto l'altro e li comunicassero all'ottile oscuro. Quindi mi aspetterei che i DS e quei numeri li abbiano. Come vi spiegate questa cosa? Secondo fatto, la tesi è che la comunicazione quella notte dei dati, la comunicazione quella notte dei dati fu, al ministero dell'interno, cambiata con un programma comunque che sia. alla fine mi aspetto che qualcuno i verbali li vada a prendere e controllare e mi aspetto che non oggi, domani, domani, domani l'altro, i dati verbali per verbale, sezione per sezione siano resi pubblici, pubblici, spero. E mi aspetto che i presidenti delle sezioni guardi i risultati e dicano sì o no, questo è quello che ho affermato. Quindi questo mi lascia estremamente perplesso rispetto alla vostra tesi. O sono veramente scemi, quelli che hanno organizzato questa cosa, o non faranno mai vedere questi dati, la qualcosa mi lascia proprio perplesso visto che c'è Giuliano Amato, adesso il ministero dell'interno, o come ve lo spiegate. Allora, dunque, per quanto riguarda i DS, da quello che so io, insomma, poi anche io sono stato un militante, le mani in pasta un po' ceglioli, diciamo che c'è una, più che una raccolta finale, diciamo, di tutti i dati, i DS fanno una campionatura, fanno le loro proiezioni e là in fondo c'è un giornalista di Modena che stava alla sezione, che è quello che parla qui e proprio la scintilla che ha dato il via a questa paura di Brogli quella notte, impressione che ci fosse qualcosa, è proprio partita dai DS, perché i dati che a loro arrivavano non coincidevano per nulla con i dati del Viminale. Quindi questa è stata la prima cosa che ha messo tutti in allarme e da lì è partito poi quel muoversi a tambur battente, cominciando a mandando messaggini a tutti i rappresentanti di lista in Italia, eccetera, eccetera, mandando i parlamentari in tutte le prefetture a vedere cosa stava succedendo, cosa che è culminata poi alla fine, come finalmente raccontato da lei ma stasera, con l'invio di Minniti perché a un certo punto i dati erano completamente crollati. Per quanto riguarda i numeri, allora i numeri ci sono, anche se non vogliono farli vedere come si dice qui, eccetera, è una cosa molto strana anche quella, è molto sospetta, è una cosa che ci ha insospettito, perché noi questi numeri li abbiamo avuti da un parlamentare che a sua volta essendo parlamentare li aveva avuti di straforo, cioè era una roba che girava come le bustine di coca, diciamo. I numeri che adesso stanno uscendo sono numeri in libertà, cioè voglio dire, noi stiamo controllando, però ci sono per esempio i risultati della Cassazione, che sono i risultati ufficiali, tenete conto che la Cassazione non tiene in conto le schede bianche, le schede nulle e il numero dei votanti. E poi ci sono i dati della Giunta per le elezioni, che è quell'organismo del Parlamento che ha come scopo non tanto di ricontare i voti, ma di garantire i requisiti di elegibilità di ciascun deputato. Le fonti di questi numeri sono gli stessi, è il famoso cartaccio che ci viene buttato continuamente in faccia per dire ma c'è il cartaccio, c'è il cartaccio, il cartaccio non può. Allora, se si controllano le colonne di questi numeri, no? Non corrispondono, cioè i numeri non corrispondono. Poi ci sono in più i numeri del Viminale, che sono addirittura un'altra cosa, e poi ci sono i numeri di un altro ente, che adesso non mi ricordo più quale sia, ma comunque è un ente emanazione del Parlamento, che è anche lui questa cosa, che dà altri numeri, cioè qui veramente si stanno dando i numeri. Vi voglio dire una sola cosa, a otto mesi di distanza, questo per ammissione ormai ufficiale, eccetera, eccetera, in Italia non sappiamo, per cui non sapremo mai quanti sono stati i votanti, il numero esatto dei votanti alle ultime elezioni. Attenzione che non parliamo di differenze di 3, 4, 5, 10 mila persone, parliamo di numeri che vanno dai 150 mila elettori, che a seconda delle fonti che ci sono, scompaiono, eccetera, eccetera. Questa proposta che lei ha fatto stasera, che fra l'altro avevo visto ieri scritta anche su Repubblica, mi pare, un signore, ben venga, che il Viminale pubblichi sul suo sito, sezione per sezione. Noi per esempio questa cosa non ce la facciamo a farla perché non abbiamo, innanzitutto quel malloppone lì noi come non ce l'abbiamo, è appena stato diffuso dalla giunta per le elezioni, dopo tutto quello che è successo, adesso dicono che è normale invece dopo tutto quello che è successo, è un malloppo di carta che pesa 28 chili, mi pare, dove ci sono tutte le cose seggio per seggio. Noi quello non l'abbiamo, ma essendo partiti con questo film e avendo aperto un sito riceviamo segnalazioni numerose, una delle ultime che è arrivata per esempio è del segretario dei DS, ex segretario dei DS della Liguria, quindi una persona che si firma nome e cognome di cui ci possiamo fidare, eccetera eccetera, il quale ha detto guardate io voto a 20 miglia, nel mio seggio ci sono state 16 schede bianche, vedo ora che certificate sono 6. allora poi vorrei anche, adesso forse dico delle cose eccessive, ma vorrei anche un po' no, è anche la sua domanda che mi dà questo appiglio diciamo, nel senso che qui si parla di Viminale, di Viminale sottoposto al controllo, di numeri del Viminale sottoposti al controllo della Cassazione, che diciamo è l'organismo principe che è quello che dà il vero risultato finale insomma, almeno 20 giorni dopo le elezioni. Io qui vorrei porvi una domanda, secondo voi se il Ministro Pisano fosse andato in televisione e avesse detto, queste elezioni sono finite sul filo di lana, però già da stasera posso dirvi che la Casa delle Libertà ha vinto per 24 mila voti. Il giorno dopo sarebbe successo che Silvio Berlusconi avrebbe festeggiato, ci sarebbe stato subito, come mai il centrosinistra eccetera eccetera, chi ha perso? Voi pensate, io una domanda che in coscienza mi faccio, voi pensate che 20 giorni dopo la Cassazione avrebbe rivisto il risultato, anche se erano 24 mila voti in più per il centrosinistra? sapendo quello che avrebbe potuto succedere. Voi vi potete immaginare cosa sarebbe oggi l'Italia se a un risultato dato dal Viminale, avesse corrisposto un risultato dato dalla Cassazione che ribaltava il primo annuncio. Non penso ai scenari da guerra civile, ma insomma ha una tensione e comunque di sicuro avrebbero dovuto trovare qualcosa, bloccare tutto, finire tutto, mettere tutto a tecere. Insomma voglio dire, alla fin fine e mi pare che tutto quello che sta venendo fuori tra questo balletto di numeri, fra le testimonianze che riceviamo, tantissime tantissime di autorevoli scienziati, poi se guardate per esempio questa settimana ci sono già alcuni articoli eccetera eccetera che stanno lavorando su questa materia perché lì insomma voglio dire, e tutti ci dicono innanzitutto che è impossibile tutto questo. La cosa su cui lavorano moltissimo è addirittura il grafico di come sono stati dati i risultati quella notte. Voi vi ricordate, e lì è raccontato nel film, che c'è questa sorta di forbice che va stringendosi progressivamente fino al sostanziale pareggio. Allora vi posso solo dire che una per esempio, a parte c'è un bell'articolo su Diario, adesso continua a fare propaganda, ma è la realtà. C'è scritto una professoressa che incontreremo questa settimana, di fisica dell'università, la titolare della catedra dell'università di fisica di Padova, la quale ci ha detto che è la prova dell'assurdo, dell'impossibile quello, e che usa quel calcolo, quell'esempio per spiegare l'assurdità ai suoi studenti alle lezioni di fisica. Un professore di matematica, titolare della catedra della Sapienza di Roma, ci ha detto che ci possono essere, avendo fatto lunghi studi, che esca un grafico così, ci possono essere le stesse probabilità che se una persona piglia una penna Bic, gli toglie il cappuccio, la fa cadere per terra dall'alto, la penna rimanga in piedi sulla sfera. Queste sono cose, perché quello che ti spiegano è che dopo un certo numero di voti non ci può più essere rimonta. Quando si estraggono, adesso io non sono un esperto, non so se qui, se tu hai un'urna chiusa, con delle palline rosse e blu dentro, quando ne hai estratto un certo numero, già ti sei fatto, già puoi sapere, un numero consistente, già puoi sapere quante ce ne saranno dentro fino alla fine, perché è una cosa che in quel momento ormai è finita, è statica. La rimonta c'è solo, come spiega questo tizio, c'è solo per esempio in una gara di biciclette, che è qualcosa in divenire, ma le elezioni sono qualcosa di assolutamente finito e quindi statisticamente quel grafico e matematicamente quel grafico è impossibile. secondo me. Allora, tutte le cose devono spiegarcele, devono dircele. Io penso che sia importantissimo. adesso poi magari ne riparliamo, intanto se avete delle domande da fare. qual è la motivazione per cui voi siete rimandati in giudizio, non so, la motivazione? Sì. E dopo di che ho sentito, poi può darsi che mi sbagli, no? Però almeno dalle informazioni che io ho leggendo il giornale, è peggio di essere aggiornato, che in Italia le nomine del vincitore è su base cartacea, per cui non tengono conto del vostro lavoro. Certo. se tutto quello che viene detto nel film inchiesta è vero, quello che io non capisco è che il centro-sinistra, il DS, avrebbero dei grossi vantaggi ad andare a verificare se ci sono tanti dei propri, no? Perché ci sarebbero dei grossi vantaggi. Come d'altra parte invece Berlusconi non avrebbe vantaggi ad andare a verificare questo. Allora non capisco, da una parte c'è un Berlusconi che chiede di contare, di verificare, di contare le schede. E dall'altra parte c'è un centro-sinistra di DS che io almeno non sento fare nulla. Allora non capisco che cosa, perché. Dunque, una era la questione su base cartacea, no? Penso di aver risposto prima. Allora, su base cartacea in Italia le elezioni sono su base cartacea, però a un certo punto i risultati vengono trasmessi in maniera elettronica, incominciano a viaggiare nel ciberspazio, perché quando dalle prefetture vanno verso il Viminale, io mi fermo sempre a quel concetto. La Cassazione, innanzitutto, la base cartacea della Cassazione non sono le schede, sono i verbali di seggio, no? Allora, che sono lo stesso meccanismo su cui si basa con due verifiche diverse, ma sugli stessi documenti, la Giunta per le elezioni, no? Allora, una prima domanda, io mi pongo, perché il risultato che dà la Cassazione è diverso, avendo fatto lo stesso conteggio, eccetera, eccetera, è diverso da quello della Giunta per le elezioni? Cioè, probabilmente qualche verbale non è chiaro, qualche verbale sarà andato perduto, qualche verbale sarà stato… ci sono 60.000 verbali che viaggiano a destra manca per tutta l'Italia, non so adesso chi è stato al seggio poi lo sa come è fatto, insomma, è un librettino di carta, cioè è qualcosa che si può deteriorare, si può perdere, eccetera, eccetera. Ma comunque, ammettiamo che non se ne sia perso uno, non se ne sia deteriorato uno, che tutto funzioni per il meglio, come mai ci sono questi calcoli che non collimano? Perché se è cartaceo, è cartaceo per uno, è cartaceo per l'altro, dovrebbero collimare. E invece non solo non collimano, ma non collimano, anche qui parliamo sempre di qualche decina di migliaia di voti. Perché non collimano? Questa è una cosa. Dunque, le motivazioni qual era che aveva detto? Ah, beh, la motivazione è molto semplice. Cioè loro non ci hanno mosso nessuna motivazione, diciamo, non hanno eccepito nulla del documentario. Noi non siamo rinviati a giudizio per quello che si dice nel documentario, ma per una frase che appare nella scritta all'inizio e che poi è riportata a loro, secondo me non manco l'hanno visto tanto bene, perché non si ricordavano che c'era dentro. Comunque è riportata anche sulla copertina del DVD che dice che le elezioni non sono state regolari. Allora dicono, ma voi dite non sono state regolari e invece la Cassazione ha detto che sono state regolari. cioè ha detto che sono state regolari. La Cassazione ha dato dei numeri, senza aprire una busta e senza vedere niente, basandosi sui verbali. voglio dire, però, diciamo, ha dato un suo risponso. E allora loro dicono, qui insomma la parola della Cassazione è parola di Re, e voi in realtà non avevano assolutamente nulla. Cioè con noi non potrebbero eccepire nulla, perché è tutta una vicenda molto strana. Nel senso che, se loro avessero riscontrato questa irregolarità, visto che il DVD l'avevano sequestrato, cioè se l'avevano fatti dare prima, l'avevano visto, l'avevano letto, eccetera, eccetera, non avrebbero dovuto convocarci come testimoni. Avrebbero dovuto già convocarci come imputati. E già questa non è una bella cosa. E vi spiego perché. Perché se lei viene convocato come testimone e sa già che io sarò imputato, io passo un'ora davanti al giudice in cui sono obbligato a rispondere tutto e a dire la verità, se no finisco in galera. No. Questa mi è venuta in mente adesso, ma è buona da dire all'avvocato. E mentre invece, no, perché è così, cioè se loro già avevano visto che c'erano degli estremi di reato, apri un fascicolo dicendo rinviati a giudizio, cioè rinviati a giudizio, indagati per diffusione di voci false tendenziosi a tratturbare l'ordine pubblico, eccetera, eccetera. E così non è stato. D'altra parte hanno aperto un fascicolo di indagine, un preliminare, eccetera, eccetera. Il primo atto istruttorio che hanno fatto è stato sentire me ed è aglio, no? Noi arriviamo lì, portiamo nuove prove della nostra cosa che sono in parte quelle pubblicate sul diario di questa settimana, cioè ci sono delle cose che non stanno né in cielo né terra, no? E la risposta è, vabbè, tanto siete indagati. Allora, io glielo ho detto, ma scusi, è come se io oggi uscissi, cioè mi rubassero il portafogli, andassi in questura a denunciare e il questore senza fare nessuna indagine mi accusa di falso e mi indaga per falso, cioè non lo so, una cosa che non sta né in cielo né in terra. La seconda cosa, gli ho detto, ma scusi, ma perché invece di… per me va benissimo se la pensa così, non posso… dico, ma come mai non indagate anche Silvio Berlusconi? Quale mi ha guardato e mi fa, eh Berlusconi… dunque un po' di colpa ce l'abbiamo anche noi, perché… no, noi, cinque anni di berlusconismo, insomma ci hanno fatto anche un po' diventare un po' critici, per cui tutto quello che veniva dal palazzo di giustizia era da prendere come oro colato, eccetera, eccetera. Insomma, forse abbiamo visto adesso la vicenda Previti e guardate che quella è una vicenda… adesso non si può dire tutto, ma quella è una vicenda molto importante. Guardate come si comporterà la giunta per le elezioni sul caso Previti, perché sapete che adesso la giunta su per le elezioni deve decidere se Previti, condannato per via definitiva, eccetera, eccetera, è da dichiarare decaduto dalla carica di senatore, così come vorrebbe la legge, o no. E quella è una decisione che si prende a maggioranza. Se prevale o no, è una brutta storia. È veramente una brutta storia che ha a che fare abbastanza anche con questo. Ah, poi perché il centrosinistro? Guardi, non lo so, in realtà penso che da una parte c'è una questione di… proprio di così… basso interesse a non voler sollevare nulla e accontentarsi comunque di una vittoria, a dire abbiamo vinto, è inutile che stiamo a rimettere in gioco le carte. Stasera D'Alema insomma un po' di cose… se mi ha riferito giusto Fabius qualcosa ha riaperto. E poi c'è una questione, diciamo anche etica e morale, secondo me è molto che ci siamo posti anche noi quando abbiamo fatto questo documentario. La questione è la seguente, è una questione che riguarda l'essenza stessa della democrazia. Cioè noi abbiamo aperto il film dicendo che quello che andavamo a toccare è un tabù, cioè uno dei pochi e degli ultimi tabù che esistono in Italia e in tutto il mondo civile. Cioè il fatto che il voto è qualcosa di sacro, che quella scheda che facciamo sull'urna è qualcosa di molto serio, assolutamente serio, che servirà per eleggere una maggioranza e una minoranza e un governo. Se questa cosa cade… insomma c'è da pensare che la democrazia rischia di passare un pessimo quarto d'ora. E questo è un po', io penso, cioè parlando in giro mi sono reso conto anche di questo. Insomma è un po' quello che è successo in Florida nel 2000 quando a un certo punto Al Gore ha detto basta, non si riconta più perché qui è il sistema democratico americano, l'essenza della democrazia in America che ci va di mezzo. Anche se l'11 settembre del 2001 la Corte Suprema americana, e questo è sfuggito a molti perché per ovvi motivi la Corte Suprema americana ha stabilito che in Florida e in Ohio erano stati fatti dei brogli. Allora, Berlusconi, anche questo è un fatto curioso, Berlusconi chiede al riconteggio dei voti, in realtà non ha ancora fatto nessun atto, cioè Berlusconi come insegnava a togliate, bisogna distinguere la politica della propaganda. Berlusconi fa per politica il pesce in barile, per propaganda è molto bravo a farla. Nelle situazioni in cui potrebbe chiedere il riconteggio, anche se è una cosa molto complicata da fare, comunque nelle situazioni dove potrebbe chiedere il riconteggio, tipo alla Giunta per le elezioni, tipo con un ricorso vero alla magistratura, Berlusconi non l'ha ancora fatto. E' come il Ministro Pisano continua a dire, quei due li ho sistemati, li ho denunciati, eccetera eccetera. Il Ministro Pisano sono sei mesi che deve denunciarci, prima per la vicenda di suo figlio, poi per altre cose e non denuncia nessuno. Cioè, grandi effetti annuncio, chiede al riconteggio. Perfetto, chiedi al riconteggio, presenti, vai dalla magistratura, presenti le tue prove, dici, guardate, hanno imbrogliato qui, là, io ho queste prove, si riconteggi tutto. Non l'ha fatto, non l'ha fatto nessun esposto. Alla Giunta delle elezioni, gli stessi membri della Giunta delle elezioni che continuano a dire, noi chiediamo al riconteggio, eccetera eccetera, poi quando si riunisce alla Giunta non lo chiedono. è un comportamento un po' bizzarro, ma tipico dell'uomo. Ha fatto vedere il programmatore che con un programma riesce a pilotare le percentuali, però a quel punto di vista che vengono pilotate queste percentuali, perché non vincere? Perché accontentarsi di una patta? C'era quella signora. Berlusconi già da prima potesse fare dei vrogli, già prima delle elezioni, ero certa che sarebbe ricorsa nelle elezioni. La sinistra, secondo lei, ci poteva pensare e poteva in qualche modo prevenire, o con più attenzione, o comunque organizzandosi meglio, o proprio è rimasta così sorpresa ad elezioni già in atto? Dunque, perché accontentarsi? Ma insomma, mi sembra che il film lo spieghi bene. No, lo spieghi bene. Se l'avesse spiegato bene... Lo spiega, no? Alla fine, nel monologo di De Capitani, a un certo punto dice, quando parla dell'antropologia democristiana, dice, vede Berlusconi. Allora, tutto si riassume in quelle due ore di fuoco che ci sono state, e molto si riassume nella faccia di Piero Fassino. Cioè, la faccia di Fassino racconta non una vittoria drammatica, racconta un dramma, punto e basta. La faccia di Tardelli, l'urlo di Tardelli che pure gli deformava la faccia in una maschera grottesca, eccetera, eccetera, però era una maschera di tensione, eccetera, eccetera, ma anche piena di felicità. Questa è la faccia di una persona a cui stavano sfilando la sedia sotto il sedere, e che se n'è accorto che va a fare un compito di cui non si sente del tutto sicuro. Cioè, non era mai successo nella storia delle elezioni d'Italia che dovesse essere il capo di una coalizione a dare l'annuncio, e soprattutto a darlo in questa maniera. Innanzitutto perentorio, ma con quella faccia. Cioè, se voi avete sempre, no? C'è sempre i dati, pensiamo di aver vinto, ma aspettiamo il Viminale. Insomma, ci sono facce serene, anche se magari ci sono stati testa a testa fino all'ultimo. Qui tutto questo non c'è. Una delle ipotesi che si fanno, e adesso bisogna anche un po' misurare le parole, perché poi non si sa mai chi c'è in sale, eccetera, eccetera. No, è che a un certo punto la macchina si è stata fermata. Cioè, scoperto l'imbroglio, la macchina è stata fermata. La macchina dei conteggi. Ma non solo. Guardate un'altra cosa. Loro comunque, al Senato, per quello che potevano saperne loro, avevano vinto. Perché nessuno, neanche il centrosinistra, si aspettava di vincere all'estero. Loro erano talmente sicuri di vincere all'estero che si erano fatti quattro liste. Ma se l'estero fosse andato come tutti prevedevano, e se loro non avessero fatto quella minchiata di farsi quattro liste, a quest'ora i senatori sarebbero di centrodestra. e al Senato e ci sarebbe quel famoso risultato di pari e patta che Michael Stern dice come ottimo per l'Italia e che Berlusconi continua a dire ottimo per l'Italia. Restate attenti che forse anche lui non ha tantissima voglia di mettersi a governare una situazione difficilissima. L'idea di quest'uomo va anche un po' seguita nella sua testa. Poi si è riempita camminfacento di megalomania, di piacere, di soddisfazione, di stare al potere. Però è partita per salvarsi, per salvare le sue aziende dal fallimento e per salvare se stesso dalle inchieste che aveva in ogni tribunale d'Italia. La prima cosa era, primo, non prenderle quando si candidò la prima volta. Oggi come oggi la sua paura è forse anche in piccola parte vera, eccetera, eccetera. I suoi incubi erano quelli che gli ritorneranno probabilmente continuamente alla memoria. l'origine dei suoi capitali, i suoi strani rapporti con la mafia, il problema Previti, il problema delle sue aziende che sono uno scandalo. Cioè quello che c'è in Italia è uno scandalo. Allora una situazione di pari patta. Da una parte lo metteva nelle condizioni di non dover esporsi troppo nei confronti della nazione e quindi di governare attraverso un governissimo. E dall'altra di contrattare tutta questa roba qui con la sua impunità. C'è abbastanza riuscito, possiamo dirlo. C'è abbastanza riuscito. Cioè, voglio dire, anche la legge Gentiloni, che adesso loro ovviamente criticano e dicono qui ci mettono sull'astrico, eccetera, eccetera, è proprio una medicina ma non omeopatica, iperomeopatica per un sistema televisivo che è uno scandalo. Uno scandalo. Questo documentario ci è stato chiesto dalle televisioni di Mezzomondo, dalla BBC, dalla CNN, eccetera, eccetera. In Italia lo vedrete su Arco Iris, sul satellite di Arco Iris. State tranquilli che non lo vedrete da nessuna parte. che quando il signor Crespi venerdì scorso avrebbe dovuto partecipare al programma di Bertolino per parlare di questo problema, gli è stato detto di no. Cioè, di questo problema tendenzialmente non... Cioè, avete visto... Pensate che Bruno Vespa abbia detto qualcosa, che è pure così attento, no, a qualsiasi cosa, si muove, ho visto che l'altra sera faceva la Madonna, il miracolo della Madonna, eccetera, 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 tutta una roba mistica, che fa 27 puntate sul mostro di Cogno, la mostra di Cogno, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo probabilmente abbiamo toccato un punto molto delicato. Però, come dicevo prima, dopo che anche noi stessi ci siamo messi una mano sulla coscienza, abbiamo passato un'estate piuttosto... perché anche noi, no, cioè ci avevamo posti questo problema proprio etico della democrazia. Alla fine abbiamo detto, è giusto, è meglio che se ne parli, e che se ne parli in maniera compiuta, ecco. E a questo punto però abbiamo capito che forse l'unico modo per che se ne parli in maniera compiuta, un po' come aveva fatto Cusani, è quello di andare a processo. Visto che non c'è una... cioè non se ne vuole discutere con ragionevolezza, no? Cioè noi ci troviamo di fronte a un muro di persone che dicono non è possibile. Ma come cazzo? Ma credi al miracolo di Lourdes e mi dici che non è possibile taroccare quattro numeri attraverso la roba. Senza offesa per i cattolici, senza offesa per i cattolici, no, voglio dire. Però in Italia, paesi in cui si crede a tutto, no? Cioè ci fanno delle trasmissioni intere sui dischi volanti che sono atterrati, eccetera, eccetera, delle cose così. E ti sto dicendo una cosa che molto, ma molto, ma molto probabilmente è successa. Allora la sinistra doveva accorgersene o non doveva accorgersene? Secondo me doveva accorgersene. Cioè sono stati chiusi gli occhi su tante cose. Adesso io non voglio fare il primo della classe. Cioè né io né De Aglio siamo dei superman e delle persone molto intelligenti. Siamo persone normali che fanno il lavoro da cronisti. Non siamo neanche gli inviati del New York Times. Però avendo iniziato a lavorare sulla campagna elettorale, no? Perché il nostro impegno era quello di chiudere il ciclo di quando c'era Silvio. Io visto che tutti gli istituti di sondaggio dicevano che avrebbe perso le elezioni, volevamo raccontare gli ultimi sei mesi di governo Berlusconi e capire e vedere come sarebbe andata a finire. E però da subito ci siamo accorti che qualcosa non andava. Cioè tutta la vicenda della legge elettorale è fantastica ma anche lì abbiamo sbagliato nel tipo di comunicazione. Ragazzi se voi guardate quella legge lì non è finalizzata a reintrodurre il proporzionale. È finalizzata a un broglio elettorale. Perché non è il proporzionale. Tant'è che lo stesso Calderoli ha detto è una porcata. Ma Calderoli è per il proporzionale. Perché loro sono un partito piccolo eccetera eccetera che col proporzionale vanno bene. Ha detto è una porcata. Perché è assolutamente una porcata. perché voi dovete spiegarmi perché per esempio dal voto, dal premi per il senato eccetera eccetera va bene in tutta Italia la Val d'Aosta viene esclusa. Perché si sa che in Val d'Aosta il centro-sinistra vince per forza. E allora la Val d'Aosta viene esclusa. Voglio dirvi un altro fatto. Sapete qual è? La Val d'Aosta viene esclusa quindi non rientra in quel famoso calcolo della Cassazione eccetera eccetera delle cose, balle varie eccetera. Sapete cosa è successo in Val d'Aosta? Che ci sono stato lo stesso numero di schede bianche che c'erano nel 2001. Sapete cosa è successo a Pordenone? che si è votato la stessa domenica per le amministrative e per le politiche. Andate a vedere i risultati del voto a Pordenone. Le schede bianche che non ci sono alle politiche ritornano alle amministrative. Sapete cosa è successo in Molise? Che le schede bianche sono scese all'1% che tre mesi dopo si è votato per le amministrative e per la regione Molise le schede bianche sono tornate. Sono tornate a Milano per le amministrative un mese dopo. Sono tornate in tutta Italia. Primavera si vede che sono rifiorite non lo so. Adesso proprio farsi prendere per il culo mi sembra eccessivo. Non voglio avere ragione a tutti i costi ma almeno ditemi. Vabbè forse un po' di ragione ce l'hai visto che è una roba così delicata siamo un po' seri e andiamo a vedere. Questo è molto semplicemente. Ultima domanda. Volevo chiedere ma se facciamo il passo successivo. Se la realtà è questa, è così drammatica e siamo in quello che sembra un vero e proprio clima di tensione in cui però fa comodo a entrambe gli schieramenti non farla venire a galla allora noi siamo messi problemati in Italia in questo periodo. Ma insomma che siamo messi, che non siamo messi bene, cioè non c'era bisogno di fare questo film o documentario no? Cioè basta aprire il giornale tutti i giorni e vediamo che lo Stato italiano paga fiore di milioni, deputati, spioni eccetera eccetera per costruire falsi dossier. Cioè una roba che non si è mai visto. Alla luce del sole fra l'altro. Ma sai i servizi deviati? No. Commissione del Senato. Due commissioni. Mitrokin e Telecom Serbia. Avevamo un capo dei servizi che non si accorgeva di niente in Italia. Cioè è stato cinque anni il dottor Pollari è stato così bravo che è stato tanti anni a fare e non si è accorto di nulla e gli è passato sotto gli occhi di tutto. Non si accorgeva che i suoi dipendenti avevano messo in piedi un'agenzia parallele per cui spiavano anche lui. Non si accorgeva che bastava andare dal signor Tronchetti provere e dirgli senta avrei bisogno di sapere se il mio vicino di casa è un mascalzone, una persona per bene, quello in tre giorni ti sapeva tutto, se era solvente, se non era solvente, a chi telefonava, se era l'amante, se era omosessuale, se era normale. Mi pare che sia un paese molto messo male, ma non tanto perché succedono le cose, perché le cose succedono e non c'è mai una fine. Questa è la realtà. Il paese in cui l'uomo che è incaricato dal maggior partito di opposizione per organizzare la campagna elettorale è il capo della mafia, non è possibile più andare a mettersi neanche a patti con questa gente, non è possibile neanche mettersi a patti, ma io non mi sento di riconoscere poi a una posizione estrema, ma signori, Marcello Dell'Utri è stato condannato a sette anni. Se voi leggete le motivazioni della sentenza, che sono un malloppone enorme, dicono esattamente questo, che Marcello Dell'Utri era il capo della mafia, perché era quello che aveva in mano il tesoro di Cosa Nostra e che ha investito nelle aziende del signor Silvio Berlusconi e che il signor Silvio Berlusconi faceva comunella e si incontrava abitualmente con tutto l'establishment della vecchia mafia, che ha tenuto uno dei più grandi capi mafia a casa sua e non a fare lo stagliere, non a fare lo stagliere, a fare il padrone di casa, quello che organizzava tutto in quella casa. Se non siamo messi male quando si dicono queste cose e tutti fanno orecchie da mercante su cose di questo genere. Il signor Silvio Berlusconi ha come avvocato, ha avuto per anni come avvocato il signor Previti che aveva messo in piedi una centrale di corruzione pari a quella di Tronchetti Provera per la Telecom, di corruzione dei giudici, dove una persona che aveva bisogno di corrompere i giudici andava dal signor Previti che non ha mai discusso una causa in tribunale. Il signor Previti non ha mai discusso una causa in tribunale, non ha mai versato un assegno in vita sua. Cioè è uno dei più grossi uffici di Roma e non ha mai versato un assegno in vita sua. Tutti i proventi dell'ufficio Previti erano incontanti. Cioè, voglio dire, ma in che mondo viviamo? E il Parlamento è lì a discutere adesso se deve restare senatore oppure forse eccetera eccetera. E la Cassazione me lo manda fuori? Ma è una vergogna. Cioè, scusate, è una roba che non sta nel cielo di terra. Questa è un po' l'Italia, è una brutta cosa. Io ho sposato una moglie spagnola, già ho sposato una moglie spagnola. Quando torno in Spagna, dal portinaio dell'edificio a tutti, e voglio dire, la famiglia di mia moglie è anche di centrodestra, restano stupiti per l'Italia perché escono delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Ma per una persona è normalissima. Cioè, siamo veramente, non lo so, facciamo il film Il Padrino e poi però la realtà è peggiore. Vogliamo fare un film su... su Marcello Dell'Uno? Davvero? Grazie. Non credo ci dovremo interrompere perché abbiamo anche la proiezione che devi iniziare tra pochi minuti e ringraziamo... Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Grazie.